Da quanto tempo sogni una vita spensierata, la serenità, la gioia ed il benessere? Questa vita si chiama Costa Rica, il paradiso tropicale dell'America centrale. Natura incontaminata e spiagge di un paese stabile e democratico. Il posto felice in cui andare a vivere. Noi del gruppo Flor de Pacifico costruiamo in Costa Rica da 25 anni. Contattaci al numero verde 800 13 43 56 per fissare un appuntamento nei nostri uffici di Mantova. Pura vita. Costa Rica. La vita che meriti.